Noi chiediamo che sia tolto l'amianto e sia bonificato il palazzo, soprattutto per la salute delle persone. Poi c'è anche una scuola qui vicino e speriamo che ci convochi noi il più presto possibile. Via Malpighi, Arezzo, case popolari, 100 famiglie, circa 300 persone che hanno sulla loro testa un tetto di amianto. Il caso è tornato alla ribalta delle cronache dopo i danni provocati dalla tempesta dello scorso luglio che ha dunque riacceso i riflettori sulla necessità di rimuovere l'intera copertura. Un argomento che negli anni era stato affrontato, tanto che c'è una lettera del presidente di Arezzo Casa, Gilberto Dindalini, datata 2013. Dopo la tempesta dello scorso luglio, però, la ASL, su sollecitazione della Sunia, ha effettuato un altro sopralluogo. Il problema di amianto, visto che si parla di un edificio pubblico, sono 25 anni che il nostro Stato italiano ha bandito l'amianto. Quindi è da lì che si parte. Quindi, da una parte, la ASL doveva controllare se l'amianto era in condizioni tali per cui non recasse danno o comunque ne recasse almeno possibile. Dai dati che ci dicono gli assegnatari, i problemi ne ha dati troppi. L'evento del 13 luglio l'ha riportato alla ribalta della tromba d'aria, ma in effetti ancora prima. Io ho letto una relazione che è del 2013 di Arezzo Casa S.p.A. che diceva che entro tre anni il tetto di amianto di via Malpighi doveva essere rimosso. Noi abbiamo scritto, dico noi, quindi il sindacato Sunia Cigielle e il comitato inquilini di via Malpighi, ha scritto all'assessore Ceccarelli che ha la delega alla casa, quindi che ha i soldi a livello regionale e all'assessore Saccardi che ha la delega alla sanità, anzi ha il diritto alla salute. Oggi abbiamo fatto la terza lettera perché non abbiamo avuto una risposta. Il Sunia ed il comitato no amianto hanno quindi organizzato una raccolta firme per ottenere finalmente prima possibile la completa rimozione della copertura in amianto. La raccolta firme partirà già da sabato 1 ottobre al mercato settimanale del Giotto ad Arezzo.